Oggi 21 febbraio si celebra anche in Abruzzo la giornata nazionale dell'alfabeto Braille che prende nome dal suo inventore e viene utilizzato dai non vedenti. Gabriele Colantonio, consigliere nazionale dell'Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, spiega come lo strumento del Braille è stato fondamentale per l'inclusione e superamento delle barriere. L'Unione Italiana Cechi in Abruzzo conta 1300 iscritti. La giornata nazionale del Braille, di questo codice di letto scrittura, che permette ormai dagli inizi del 1800 di consentire ai ciechi un accesso universale al patrimonio culturale scritto. Sul tavolo poi abbiamo diversi attrezzi del mestiere, nel senso che si va dalla parte più antica fino alla parte più moderna. Un libro di Pierandello scritto in Braille. Certamente. Dunque, noi sul tavolo abbiamo la tavoletta Braille, che è il primo strumento tradizionale che attraverso un punteruolo ed una tavoletta plastificata o in metallo si possono imprimere i puntini che rappresentano l'alfabeto Braille. Perché dobbiamo ricordare che il codice Braille non è nient'altro che una combinazione sostanzialmente di 64 combinazioni che consentono appunto la creazione della scrittura e quindi poi anche della lettura. Abbiamo uno strumento più avanzato che è sostanzialmente il display Braille, è un strumento informatico moderno che può essere collegato ad un normale personal computer, a un tablet, ad uno smartphone e ci permette di leggere in Braille ciò che compare sullo schermo appunto del dispositivo informatico. Quanti passi avanti si sono fatti in tal senso? Tantissimi. Oggi possiamo tranquillamente accedere alla istruzione, alla cultura, al lavoro, possiamo certamente svolgere qualsivoglia tipo di attività e mestiere grazie alla possibilità che il Braille, che rimane ancora oggi uno strumento fondamentale, proprio perché è accostato oggi all'informatica, e quindi possiamo leggere e scrivere anche con una determinata velocità e fluidità e non avere senza dubbio limiti che magari qualche decennio fa senza l'informatica vi potevano essere. Ma tutto è partito da quell'alfabeto codice inventato nell'Ottocento dal francese Braille, non vedente anche egli e a soli 16 anni propose il sistema di scrittura puntiforme in rilievo da leggersi col tatto che appunto da lui prese il nome.